...delle chiacchiere che stiamo vendendo qui insieme a Lucio. Ecco. Per il mio asicinale ti faccio solo il mio. Ah, va bene. Poi il resto è per il mio pasticciere. Ma come sono queste chiacchiere? Qual è il segreto? Volevi assaggiare? Sì, assaggiamo. Ma qual è il segreto? La leggerezza dell'impasto? È l'anestate. Vincenzo, quali sono gli ingredienti? Vincenzo, allora, dici qualcosa, Vincenzo. Allora, come sono queste chiacchiere? A parte le chiacchiere dei giornalisti, lasciamo perdere, e quelle dei politici quelle dei politici che ieri hanno fatto uno show, diciamo, al Senato. Queste chiacchiere che chiacchiere sono? A chi le diamo? Queste chiacchiere qua ci tiriamo fuori da tutte quelle chiacchiere, così diamo qualcosa di dolce, qualcosa che resta nei nuovi animi. Con ingredienti semplicissimi vengono fatte queste chiacchiere qua. Farina, zucchero, strutto e vino bianco. Ed esce fuori questa fragranza così... Vincenzo, ma sono fritte? Queste sono fritte. Guardate, come puoi notare, la frittura non si vede perché...